Expo Venne in Sud 2019, ci troviamo allo stand di Eurofood SRL, un'azienda di Ragusa che vende e distribuisce non solo sul territorio siciliano una serie di attrezzature e di prodotti di consumo Siamo in compagnia di Roberto Di Noto, l'amministratore dell'azienda che intanto invito a salutare Bentornato Roberto Grazie ancora Venne in TV, grazie ancora Fabio per questo primo ingresso e ringrazio il tuo gruppo e la tua equipe per questi due minuti che dedichi la mia società la società della mia famiglia, la Eurofood, la società storica nel mondo del vending guarda sempre in avanti, ha guardato mercati esteri in tutti quelli che sono le sue forme del suo business, col business che si intende il vending e nel frattempo nell'ultimo periodo ha messo a segno un altro tipo di progetto che è molto importante è quello che è il discorso del biocompostabile, è quello che è l'innovazione di questo prodotto in fibra di legno, sia la paletta che è in legno puro e in quanto è anche certificata che è anche il bicchiere per il vending asettico in fibra di legno che è quello che hai tra le mani, è un bicchiere realizzato in fibra di legno adattissimo, anzi perfetto direi per la distribuzione automatica che completando poi il suo discorso con le palette automatiche sono perfettamente in linea con quelle che sono le direttive della comunità europea per il 2021 La necessità del gestore oggi è l'affidabilità non solo del prodotto a essere in linea con le normative della comunità europea ma avere un prodotto che non si inceppa come la paletta ben certificata è stata testata da me per più di un anno in altri mercati rende bene nel distributore e ottimizza quello che è la fattibilità del distributore evita anche gli inceppamenti e quindi i costi aggiuntivi per poter evitare questo significa avere un prodotto affidabile e questo è l'altezza del compito E allora di questo parleremo al termine della nostra micro intervista alle nostre spalle abbiamo una serie di accessori realizzati da K-Matic di cui tu sei distributore ma non finisce qui perché non c'è solo K-Matic tra le aziende che tu distribuisci Allora Eurofood e K-Matic è un punto forte del suo progetto in quanto essendo una società che dà un'accessoristica ad alto livello e quindi consente a noi di poter integrare la nostra gamma siamo presenti sul mercato con diversi prodotti come bianchi storici su questo brand ottimo prodotto affidabile nel medio e lungo termine macchina con una resa di erogazione e di estrazione eccellente siamo affidabili anche col prodotto Snack Manea quindi un altro prodotto di stile artigianale ma di una manifattura ben dettagliata siamo presenti sul mercato con CPI sistemi di pagamento innovativi e quindi molto presenti nel territorio nazionale e internazionale quindi una vasta gamma completa siamo distributori dell'LK quindi un altro tipo di brand che consente come accessoristica sistemi di pagamento il sistema 4.0 per la certificazione dei corrispettivi e tante altre piccole novità il lettore di banconote eccetera 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 che sono importanti per quello che è il discorso vending ed è estremamente importante che questi prodotti integrati nel nostro circuito mettono al consumatore finale, al gestore nelle condizioni di poter creare il suo business non avendo altri intoppi che solo quello di amministrare al meglio la propria impresa del piano amministrativo per quello che è il resto noi siamo in grado di poterli strutturare e dare un know-how completo a questo tipo di discorso lo facciamo da più 25 anni noi siamo sempre stati un'azienda dinamica emulativa guardiamo avanti come oggi la paletta in legno il bicchiere certificato in fibra di legno sono prodotti che anche oggi sono all'avanguardia in quanto il mercato ce lo chiede noi siamo presenti ma siamo presenti con un prodotto d'alta qualità Roberto, non termina qui perché hai dimenticato Brita Brita è un altro prodotto accessoristico nel nostro circuito che consente di dare al consumatore finale quindi al gestore non solo un'estrazione del caffè di alta qualità e quindi dà anche la possibilità di migliorare la resa del prodotto ma nello stesso tempo migliorare la resa del distributore come si dice l'abbinata l'integrare la macchina bianca il filtro Brita il sistema di pagamento eccetera 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 che sono parte integrante del sistema vending questo consente a noi di dare al cliente finale un prodotto completo certificato e nello stesso tempo strutturato alle proprie esigenze e allora per chiunque desideri maggiori informazioni su questi bicchieri realizzati con la fibra di legno e le palette perfettamente biodegradabili qual è l'indirizzo di posta elettronica a cui poter scrivere per avere maggiori informazioni senza alcun impegno siamo in grado di poter dare al nostro indirizzo il posta elettronica info chiocciola eurofoodsrl.it tutte le informazioni che ci chiedono siamo in grado di dare paletta 90 mm classica o paletta 105 mm sulla base della propria richiesta siamo in grado di dare un bicchiere 166 cc storico come un 180 cc quindi sulla base delle esigenze del consumatore finale sulla base delle esigenze del proprio cliente sulla base delle esigenze del mercato possiamo soddisfarli quindi oggi eurofoodsrl.it vuole essere leader e vuole rimanere leader anche in quest'altro prodotto Roberto, grazie grazie a Venditv, grazie a voi tutti speriamo che nei prossimi anni ci si incontra e spero di portare anche delle buone novità grazie 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 a tutti.